La giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, in generale contro gli abusi. Anche a Chieti questa mattina iniziativa importante. In piazza Vico la polizia con un camper per dare una mano a chi ne ha bisogno. Un gruppo di esperti della polizia ha accolto i cittadini, soprattutto gli studenti del liceo statale Isabella Gonzaga di Chieti, per illustrare finalità e obiettivi della campagna nazionale della polizia di Stato dedicata appunto alla prevenzione della violenza di genere. Il questore Annino Gargano è la psicoterapeuta della cooperativa Alfa, Marilena Stallone. Il significato di questa giornata è davvero profondo? Assolutamente sì. Oggi vogliamo ribadire con la campagna della polizia di Stato questo non è amore che noi ci siamo, che poliziotti e altri professionisti sono pronti ad ascoltare ogni situazione di disagio. Abbiamo visto tante ragazze, tante studentesse del liceo Gonzaga di Chieti. Questo significa che la violenza di genere si combatte anche e soprattutto sui banchi di scuola? Sì, è una campagna questa appunto di prevenzione e che non può non prescindere proprio dal partire dalle scuole superiori. Ribadiamo quindi guardando negli occhi questi ragazzi, facendo capire loro che la polizia di Stato c'è. Dottoressa Stallone, è questo il messaggio? Sì, assolutamente. La prevenzione e soprattutto appunto con i ragazzi penso che sia la cosa principale. Noi come centro antiviolenza abbiamo questo impegno 365 giorni all'anno. Proprio domani abbiamo creato una diretta Facebook con la maggior parte delle scuole superiori del territorio di Chieti. Ci sarà con noi lo scrittore Lumera con il suo libro appunto La biologia della gentilezza proprio perché sono termini precursori poi, il rispetto è il precursore per evitare anche la violenza. Poi ci sarà la professoressa Lalli che è una professoressa di sociologia della comunicazione dell'Università di Bologna. Le donne vittime di violenza si rivolgono senza problemi al centro antiviolenza, ai centri antiviolenza oppure c'è una forma anche di eritrosia a farlo? La paura c'è, la vergogna, il senso di colpa, ci sono ancora tutti questi elementi che devono essere superati. Questo è un percorso anche in processo culturale, quindi questa giornata di sensibilizzazione deve essere più che altro una forma culturale di aiuto alle donne per dire noi ci siamo. Il camper presente proprio, lo stiamo vedendo, lo sta inquadrando il nostro Andrea Berardinelli e la polizia qui in Piazza Vico a Chieti simboleggia appunto che cosa quest'ora? Simboleggia che siamo nel cuore della città di Chieti, pronti, nel ribadire ancora una volta, ad essere vicini in modo da evitare e quindi prevenire ogni forma di violenza di genere.